Grazie. Andiamo? Ciao, buonasera a tutti e a tutte. Grazie di essere qui al freddo in questa prima giornata di pioggia del 2023. Grazie a tutti e a tutti. Grazie a tutti e a tutti. Grazie a tutti e a tutti e a tutti. Abbastanza inaspettato, non abbiamo inventato niente, i pezzi sono arrivati comunque seguendo un discorso che si era già aperto su altri quotidiani e anche su altri editori. Il libro di Lucia è stato uno dei libri di cui si è più parlato secondo me, secondo noi in questi primi mesi. Poi c'è stato l'intervento di Selvaggio Lucarelli, poi c'è stato Masneri sul foglio e poi questi nostri pezzi che hanno avuto un successo inaspettato. Quindi abbiamo detto facciamo questa cosa dal vivo, portiamo questo dibattito dal vivo, anche perché in passato quando avevamo già parlato di Milano, l'avevamo fatto durante il studio intriennale, che è il nostro festival che facciamo ogni novembre, c'era stata una discussione molto accesa per usare un eufemismo, nel senso che proprio il pubblico si era messo a inveire contro certi relatori, certe relatrici da ambo le parti, diciamo, dello spettro politico. Quindi è una cosa che speriamo che succeda anche stasera. Ed eccoci qua per parlarne. Abbiamo Asia Neumann Dayan, che è un'autrice tv e giornalista per l'inchiesta e la stampa. Lucia Tozzi, autrice di questo libro, l'invenzione di Milano. Di cui si è parlato molto, che non introduco a lungo, ma di cui sicuramente parleremo oggi. Luca Misculin, del Post, ex autore di Colonne, una newsletter su Milano, autore dell'ultimo podcast La Nave. Giacomo Papi, si può dire del Post, anche per te, amico del Post. Giacomo Papi, scrittore, Elia Guardapelle, deputata del Partito Democratico. Io comincerai con una battuta a testa e comincerai da Assia. Assia, ce l'hai il microfono? No, ne abbiamo uno in meno. Uno dei motivi che ci ha fatto propendere per invitarti è che hai, parleremo molto di Twitter ovviamente oggi, purtroppo. Che bello, non vedevo l'ora. Hai questa attività su Twitter piuttosto prolifica di cercare di mettere, secondo me, la discussione in un senso non sbracato ma intelligente. Una volta hai scritto questo tweet che era, non facciamo di quello che sta succedendo, la solita polemica su Milano, perché non è la solita polemica su Milano. Una cosa di cui tra l'altro hai scritto molto è tutto un mondo che non viene quasi mai citato. Non sono le piste ciclabili, non è il marketing, non sono i grattacieli, non è Airbnb, che pur essendo un tema urgentissimo se ne parla molto. Ma sono tutta una cosa sommersa, tra virgolette, di servizi per i cittadini e le cittadine, per esempio i centri estivi per i bambini, per esempio gli asili, per esempio le graduatorie per le scuole. Qual è il tuo punto di vista di tutta la discussione che si sta accendendo da un anno e mezzo a questa parte e è centrata oppure no, secondo te? Allora, poi se volete anche, scusami, venire avanti è pieno di posti liberi. Pieno adesso, mi sembra che ci sia tanta gente. No, allora io mi occupo principalmente della mia attività di scrittura, che sicuramente conoscerete tutti, di genitorialità. Dico genitorialità e non mamme, perché sennò poi i papà magari si offendono e si sentono esclusi come al solito. Abitando io a Milano e mettendomi, come sempre, al centro del mondo, mi confronto con una città che è cambiata. La polemica su Milano, secondo me, non è uguale a quella che è sempre stata, perché poi Milano è sempre stata denigrata, derisa, perché poi Milano è anche totalmente priva di senso dell'umorismo, quindi è anche facile prendersela con Milano e con i milanesi. Da il famoso video Milano non si ferma, perché secondo me è quello che cambia le cose, credo che la polemica adesso coinvolga anche i milanesi, nel senso che pure i milanesi si sono stufati di tante cose, di una gestione, secondo me, che non è adatta e non è più... Non vorrei essere troppo transciante, ma mi scuote questa cosa. Una gestione che ti fa sempre cadere le cose dall'alto. Tu dicevi dei centri estivi, io ogni anno faccio le mie polemiche, che sono sempre inutili, parlo a me stessa, perché, e questo è un altro punto, non ho nessuno con cui parlare, perché tutte le voci un po' contro vengono un po' silenziate, no? Viene tutto fatto cadere dall'alto, noi siamo partiti a dicembre con... Non sappiamo se ci sono i centri estivi, che sarebbe stato un danno enorme per tutte le persone con figli, perché non è che la gente smette di lavorare l'8 di giugno, questo mi sembra chiaro. Un centro estivo privato, io l'ho pagato, erano sui 200-250 euro a settimana, che non è una cosa fattibile per nessuno. Questa è la situazione a dicembre, io non mi sono accalorata, perché io so come funziona, cioè la cosa poi accade, c'è il lieto fine, ma te la fanno cadere dall'alto. Quindi, arriviamo a marzo, escono degli articoli, qualche articolo, più che altro la comunicazione di Milano si basa su Instagram, su Instagram di Beppe Sala, della Scavuzzo. Io mi sono, volendo il telefono, oggi mi sono accorta di avere più foto di Beppe Sala con dei bambini o con dei cantanti che mi è di mio figlio, che è abbastanza inquietante, lo so però, è tutto materiale che poi torna utile. Intorno al 16 marzo la vice sindaca Scavuzzo fa una story con le stelline, Ah, forse ce la facciamo, sono arrivati i 700 mila euro, però ancora non si sa. Stacco, attraverso il podcast di Beppe Sala, che quotidianamente ci allieta con le sue parabole, arriva la comunicazione tramite il racconto del piccolo principe, che finalmente i centri estivi si faranno. Quindi, noi siamo tutti contenti e il fatto di essere tutti contenti frena tutti dal dire che certe cose e un certo tipo di comunicazione non ci sta bene. A me non sta bene. Questo è. A proposito di comunicazione, Lia, tu sei stata segretaria del circolo 02 del PD, che è il più grande circolo del Partito Democratico di Milano, dal 2008 al 2012, quindi hai vissuto il cambiamento di Milano dalla Giunta Moratti a quella Pisapia. C'è stato chiaramente un grande cambio di percezione, a mio modo di vedere da cittadino e da elettore anche da quando posso votare a Milano, della grande rivoluzione del 2010, della conferma anche non del tutto così scontata del secondo mandato del Partito Democratico e di una vittoria gigantesca contro Bernardo le ultime amministrative, che tuttavia nonostante sia arrivata con molti più voti rispetto a cinque anni prima, è arrivata dopo il 2020, è arrivata quando una shift della percezione di una parte anche forse di elettori del PD c'era stata verso, non so se verso l'amministrazione o verso la figura del sindaco. Tu come hai percepito questa cosa da, se l'hai percepita o se sei d'accordo da dentro il partito? Io volevo innanzitutto ringraziarvi, ringraziare questo studio, Iperborea, The Passenger, per avere portato questo dibattito che è stato fatto molto sui social, molto nelle case, nelle serate tra amici, su whatsapp, portato in una arena, in una agora si direbbe, forse nell'antichità si diceva così, di guardarci in faccia e di dirci le cose come stanno, con la rabbia, le difficoltà, la delusione che tanti di noi provano nei confronti della nostra città. Credo che sia, si direbbe in inglese, it's about time, è il momento di fare questa discussione e magari di non lasciarla semplicemente qui, poi magari vedremo portarla, di svilupparla. Io ho ascoltato Assia, sono uno dei fruitori dei tuoi tweet, li leggo spesso, mi fanno pensare, qualche volta te li stellino, altre volte dico se gli li stellino la affosso, è peggio così, però li leggo. Ma diciamo, quello che tu esprimi non è un'unica voce, una voce sola, sono tante le persone che credo non si sentano più in sintonia con una certa idea, con un certo racconto di Milano. E secondo me questo è il punto di questa sera, che cosa è successo? È Milano che non è più quella di una volta? È il sindaco che non è più in sintonia con quello che sentono i cittadini? Sono cambiate le percezioni di tutti noi e tutte noi rispetto alla nostra città. E diciamo, io vivo tra Milano e Roma, mio marito ha vissuto più tempo della sua vita a Roma, io ho più tempo a Milano, anche se non ho sempre vissuto a Milano, ho vissuto in tante città. L'ultima città dove ho lavorato è Venezia, che è un'altra città dove si discute, si racconta, si parla molto di Venezia. Anche a casa nostra c'è questo dibattito. Diciamo, io sono la milanese e lui è il romano. Però è un dibattito che c'è. La cosa che io credo e la sento anch'io è che secondo me è cambiato quello che noi chiediamo alla città. Credo che il Covid, perché poi tu fai risalire la rottura al video, ma secondo me sotto il video c'è tantissimo, c'è la paura che abbiamo vissuto, lo spaesamento. Io i mesi del Covid non li ho fatti a Milano, sono tornata a Milano il 3 di maggio e vi assicuro, io me lo ricordo che cos'era il 3 di maggio a Milano, diverso dal 3 di maggio a Roma. Milano era una città traumatizzata. E questo trauma non è mai stato discusso. Roma non era così. Roma non ha vissuto il Covid come è stato vissuto qui. E credo che questo abbia cambiato tutti noi. E non è stato fatto questa discussione pubblica. Milano è da sempre nella sua storia una città di lavoro, dove le persone vengono e trovano la propria affermazione nel lavoro. È la città d'Italia col più alto tasso di occupazione femminile, è la città d'Italia dove vengono decine di migliaia di studenti ogni anno, perché qui si studia bene ma poi si pensa che si troverà lavoro. Ma questo tema del lavoro credo che non sia più abbastanza nelle nostre vite. E credo che collettivamente su questo si debba ragionare. Arrivo a un ultimo punto, poi per lasciare, io parlerò di queste cose tantissimo. Sapete quanti sono i bambini che nascono a Milano ogni anno? 8, 9 mila, adesso poi c'è Luca che... Dico questo numero, dico 8, 9 mila, perché ci rendiamo conto di come, diciamo, del modello di sviluppo insostenibile di questa città. Cioè è una città che non si riproduce. E' una città che ragiona in un modo diverso che forse non è più adeguato a quello che tutti abbiamo vissuto. Ora, e chiudo su questo, ci sono stati tanti momenti nella storia della nostra città in cui, diciamo, i cittadini si sono attivati per esprimere disgusto, mancanza di soddisfazione. Io ricordo benissimo lo slogan con cui Stefano Boeri si presentò alle primarie nel 2010. Era cambiamo città, restiamo a Milano. Perché in quell'epoca, che tanti di voi magari non hanno vissuto, cioè il fine degli anni 90 e i primi anni 2000, c'era una... Detestavamo Milano così tanto che nel weekend si andava via, che si sperava di andare via. E poi ci sono dei momenti in cui i milanesi fanno svoltare Milano. Allora io penso che è questo il momento di aprire una conversazione su come ripensare a questa città, che è una città che dà tantissimo, ma che è una città che pretende tantissimo e che è una città che su tanti aspetti della vita che forse sono diventati più importanti durante il Covid, a partire dal tema familiare, della vita personale, dei bambini, delle donne, che sono, diciamo, dei temi sempre ritenuti ai margini, ma che non sono ai margini, sono al centro della vita, ecco, queste cose Milano le ha sempre ignorate. E penso che un dibattito come quello di oggi ci possa aiutare anche la politica a ripensarsi, a ripensare insieme ai suoi cittadini questa città che è una città dove i cittadini hanno una partecipazione che, diciamo, non ha uguali, io credo, in Italia. Grazie. Giacomo, nelle mail in cui ci siamo scritti per organizzare tutto questo, lì ha linkato un post Instagram di una pagina che parlava del neonato affidato all'ospedale in questi giorni e su cui si è scritto molto, si è urlato molto a partire da Ezio Greggio e in modo non del tutto ok, diciamo. Mi ha colpito una cosa di quel post che diceva si è persa, secondo l'autrice di quella pagina, una riservatezza ed efficienza silenziosa che, secondo lei, era una delle caratteristiche principali al DNA milanese. Tu, diciamo che ti metto addosso adesso questo vestito da memoria storica milanese, da generazioni, da un punto di vista un po' più sfumato, un po' più inafferrabile. Ti sembra che si sia perso qualcosa a livello di che cosa vuol dire essere milanese, ma non solo delle persone, ma anche i palazzi, non so. Per me è una cosa che negli ultimi anni a me sta piacendo molto poco, per esempio, sono gli indirizzi strillati sopra i portoni, che se abiti anche in via Bonghi, c'è scritto Bonghi 48. Sì, non ci avevo pensato, però è un bel modo di vederla. Intanto ti ringrazio di farmi fare la memoria storica che qui a Cortina, perché oggi fa un freddo che non sembra di essere a Milano, mi colloca subito da un punto di vista anagrafico. Sono piuttosto d'accordo con alcune delle cose, con l'analisi che ha fatto lì a Quarta Pelle e contemporaneamente però non ho il tuo ottimismo. Cioè io penso che Milano, da quando me la ricordo e da come l'ho studiata nel Novecento, ha attraversato decenni di espansione e decenni di chiusure, come una fisarmonica. Ci sono stati decenni in cui ci si chiudeva in casa e decenni in cui si apriva e si andava nelle strade. Ho la sensazione che noi veniamo da un decennio in cui Milano si è aperta come mai prima d'ora e quindi questo tema e questa domanda che mi fai si riallaccia a questo, cioè per la prima volta i cortili, le case, si sono aperte e la gente è uscita per strada. E forse il climate change in questa cosa c'entra perché fa meno freddo a parte stasera e c'entra anche il divieto di fumo nei locali per cui le strade sono e c'entra la politica prima di Pisapia e poi di Cana, di Sala che hanno interpretato la strada come una sorta di città diffusa da usare anche con esiti in qualche modo eccessivi e nefasti perché non c'è più un confine fra notte e il giorno come se il ciclo del consumo fosse infinito. Ho la sensazione proprio che però a differenza di quanto di Cieli a Quartapelle stiamo sulla soglia della fine di una bella epoca cioè che il Covid ha rappresentato questo spartiacque che il decennio appena passato con tutte le sue storture sarà ricordato come davvero la bella epoca di questa città che si vedeva arrivare e che questa trasformazione sia dovuta a tanti fattori fattori anche che è impopolare dire oggi cioè i fondi il fatto che sono arrivati quelli del Qatar e hanno acceso dei quartieri che prima erano Milano è una città tolemaiche una città costruita a cerchi intorno a un centro se tu sei di Milano sai benissimo la tua appartenenza di classe che coincide con quella del cerchio a cui appartieni ti stringi proprio la mano fra primo e terzo cerchio cioè non ci sono più queste cerchie ma sono proprio dei confini di classe quello che è successo da un punto di vista urbanistico negli ultimi decenni è che per la prima volta nella sua storia è diventata una città policentrica si sono accesi i quartieri il Duomo è diventato una specie di come dire vetrina di turisti non è più il centro pulsante e del cuore economico della città e questo si riallaccia alla domanda che mi fai io ero rispetto al video di Milano non si ferma che anch'io reputo un passaggio e anche l'inizio della mia insoddisfazione rispetto ne avevi scritto mi sa si ne avevo scritto perché avevo trovato insultante un po' per un milanese che l'idea di Milano non si fermi si condensasse dell'immagine del sindaco e di Alessandro Cattelan che prendono una birra insieme cioè mi sembrava veramente riduttivo per la città senza avere niente contro nea nel sindaco cioè era proprio un'idea della Milano da bere che riduceva una storia che invece è molto diversa molto più ampia un'economia che è molto più anche questo anche questo fatto forse dovremmo parlare cioè che è una città in cui si divora e si beve è diventata una città in cui il cibo e l'alcol in particolare io sono un dischetto bevitore hanno hanno una centralità forse eccessiva e non è che questa cosa non passa poi nell'umore delle persone e quindi sì allora i miei due figli sono nati alla Mangiagalli cioè nello stesso ospedale dove è nato quel bambino con la primaria precedente che si chiama Alessandra Custerman che ha scritto la cosa più giusta rispetto dal mio punto di vista a questa storia ci ha detto perché quella lettera è stata resa pubblica e cioè forse davvero da un punto di vista antropologico quello che è cambiato in questa unione fra capitalismo e social di questi giorni di questi anni è proprio questo cioè che tutto debba essere esibito una cosa è aprire i cortili una cosa è che tutto Milano è l'unica città d'Italia dove la parola lavoro non è un sostantivo ma è un verbo laura si dice e dove questo si coniuga per forza con un senso di pudore e di sobrietà ecco nell'ultimo decennio questa ostentazione delle vie che dicevi tu della scala che diventa Harper's Bazaar piuttosto che il Dolce Gabbana questa fusione fra capitalismo e social secondo me rischia di ridurre una storia anche gloriosa della città a qualcosa che è un po' una caricatura degli anni Ottanta e questo secondo me è il crinale su cui bisognerebbe un po' riflettere da un punto di vista culturale sì perché secondo me c'è proprio anche una parte dell'insoddisfazione è anche questa un po' eterea cioè proprio un fastidio verso certi comportamenti e vado su una cosa un po' più concreta per Miskulin delle cose che non funzionano invece perché a me interessa molto quando parliamo di queste cose l'altro giorno sono andato all'incontro organizzato da Maran dal comune da base per parlare di diversi temi tra cui quello della casa che è una cosa che mi interessa molto c'era una rappresentante di Airbnb Italia che parlava difesa di Airbnb e c'era un rappresentante di questa associazione veneziana che si chiama Alta Tensione Abitativa che invece presentava una proposta di legge per limitare Airbnb loro vengono dall'esperienza di Venezia che purtroppo temo che sia irrecuperabile ormai però una proposta di legge nazionale è quello che ci vorrebbe dicono loro direi anch'io però parliamo di legge nazionali che cosa in tutto o non tutto perché se non ci mettiamo sette anni quello di cui parliamo a Milano è responsabilità comunale e che cosa invece dipende ancora troppo dalla regione o dal governo di Roma intanto grazie di nuovo a rivista studio a Passenger e a Iperbora per questo incontro che appunto era dovuto nel senso che ne stiamo parlando tanti di noi a cena davanti alla macchinetta del caffè in auto di queste cose ed è bello che lo si faccia in un posto pubblico io in effetti ho un po' la sensazione che a volte dobbiamo darci dei paletti dei punti fermi attorno ai quali sviluppare il dibattito mi è venuto in mente preparando un po' ripassando cose per questo incontro un tweet di una giornalista di un grosso giornale giornalista che stimo credo milanese che a un certo punto qualche settimana fa volendo descrivendo il suo stesso tweet come un contributo al dibattito su Milano si è lamentata del fatto che non aveva trovato una visita specialistica in tutto il 2023 ora a me sembra che alcune critiche che riguardano Milano in generale il modello Milano la città che si sta sviluppando siano davvero un po' fuori fuoco nel senso che se pensate alle cose che non funzionano in città le prime che secondo me vengono in mente un po' a tutti sono la sanità le case popolari e i treni suburbani che da Saronno o comunque dall'Interland arrivano depositano i pendolari schiacciati come sardine qui a Milano e sono tutte cose su cui il comune non ha nessuna competenza sono tutte cose la cui ma la gestione della regione è acclarata e io credo che ci rendiamo poco conto di quanto poco margine il comune di Milano abbia e quindi anche il sindaco che fa un po' da parafulmine rispetto a tutte queste critiche nel gestire e nel dare una direzione alla città quando tu hai un bilancio comunale che per un terzo sono circa 800 milioni di euro se ne va via nel trasporto pubblico locale ATM un'altra parte consistente se ne va via per gestire tutta la macchina burocratica e amministrativa i trasferimenti statali diminuiscono da 20 anni a questa parte il governo credo che qualche giorno fa abbia detto al comune che nel 2023 avrà 50 milioni di euro in meno 50 milioni di euro per un comune fa impressione ma per un comune come quello di Milano sono tanti poi chiaramente gli stipendi a Milano sono più alti che altrove ma nel senso il sindaco non può farci nulla io credo che se Sala schioccando le dita potesse raddoppiare lo stipendio di tutti noi lo farebbe il mercato immobiliare come sapete la casa è un problema gigantesco immagino che ne parleremo si muove su binari a volte anche un po' imponderabili arrivano i fondi arriva Airbnb che si comporta come si comporta ci sono delle dinamiche davvero difficili da controllare alcuni comuni anche in giro per l'Europa ci stanno provando ma non è semplice anche lì poi chiaramente non esiste una politica nazionale sulla casa da 30 anni e quello fa poi credo anche sia una questione di aspettative nel senso che se noi pensiamo che appunto il comune di Milano ha questo margine molto ristretto ha questo bilancio che permette di fare poche cose non possiamo pretendere di paragonare Milano e per questo dicevo che è proprio anche un problema di comunicazione e di narrazione con altre città europee che si muovono su dinamiche molto molto diverse per esempio a Vienna il 60% delle persone degli abitanti di Vienna vive in case a canone concordato oppure che erano ex case popolari però Vienna è una città che fa parte di un paese di una repubblica federale Vienna è uno dei nove land austriaci quindi ha grandissima autonomia nello spendere i propri fondi nel attuare politiche più lungimiranti e per cui ci vogliono anche molti soldi in sostanza quello che voglio dire è che Milano non vive in una bolla che non risente del contesto in cui è calata cioè un contesto italiano in cui appunto il governo nessun governo negli ultimi 30 anni ha avviato delle politiche serie sulla casa in cui tutti i governi hanno tagliato a più non posso le spese per gli enti locali in cui e questa è un'altra difficoltà oggettiva Milano è una città governata ormai stabilmente dal centro-sinistra con una regione che rema contro qualsiasi cosa con adesso un governo che remerà contro per i prossimi cinque anni secondo me quando ragioniamo di un modello Milano quando ragioniamo anche di chi sono i responsabili della situazione in cui ci troviamo perché è inutile negare i problemi i problemi ci sono dobbiamo un po' ragionare in maniera un po' più articolata sulle persone sulle entità a cui attribuire delle responsabilità credo grazie Luca Lucia ultima di questo giro il tuo libro tratta veramente moltissimi temi diciamo che il principale è quello della comunicazione del marketing con cui la nuova Milano diciamo da Pisa Pia in poi è stata comunicata ai cittadini trasformando anche i cittadini in fan di una città più che in semplici cittadini appunto parli molto di quello che è stato delle basi che sono state messe dall'amministrazione precedenti da Expo al quartiere Porto Nuovo della fondazione Catella e attualmente Coima e di come queste operazioni sono state poi gestite dalle giunte successive l'eredità che si sono portati dietro e le toppe talvolta funzionanti talvolta no che sono state messe una cosa rimarrei a Isola perché nelle fotografie di Milano Isola è quello che è stato fatto nella zona in cui adesso sorgono il Grattacielo Unicredit Piazza Gaulenti il Bosco Verticale e anche il tuo quartiere è un po' la cartolina di questa fase di questo belle poc come diceva Giacomo di Milano una cosa che che mi ha colpito è il tuo libro e di cui si parla anche confrontando quello che sta succedendo in Francia negli ultimi settimane e quello che non sta succedendo in Italia è la partecipazione dal basso ho letto diversi contributi sempre social whatsapp ma anche articoli che dicevano ma in Italia dove è finita qual è stata l'ultima grande manifestazione che è stata fatta ecco la trasformazione del cittadino in soggetto passivo è una cosa di cui ti occupi e in Isola forse a Milano si è vista l'ultima resistenza alla gentrificazione che questa città ha subito con Isola Art Center che si opponeva all'operazione di Catella e di Ligresti ti vorrei chiedere se pensi che si possa ritrovare un fenomeno simile ancorché cambiato perché sono passati 15 anni e se sì dove e come si può sviluppare grazie allora è interessante che tu parta da Isola perché appunto una delle cose che per esempio famigerato Manfredi Catella dice nel suo libro Milano si alza è appunto che la trasformazione di Porta Nuova è avvenuta senza alcun conflitto cosa che è assolutamente falsa è stato l'ultimo l'ultimo conflitto come dicevi tu è stato un conflitto pluridecennale animatissimo e non si placava questo conflitto per quanto poi si possa discettare su chi era veramente ad animare il conflitto erano gli artisti gli abitanti quanto gli artisti erano abitanti ma quanto riflettevano le scelte degli abitanti popolari storici dell'isola però di fatto è stato un conflitto lungo appassionato e per placarlo è stata usata la carta è stata giocata la carta Stefano Boeri il quale visti i suoi passati MLS visti le sue amicizie con le fasce più radicali dell'architettura le sue conoscenze la sua intelligenza è stato messo lì proprio a mediare sostanzialmente ha ottenuto di dividere il fronte degli attivisti sostanzialmente promettendo a una parte dei resistenti di avere degli spazi nella stecchetta che lui ha costruito a fianco alla fondazione Catella dopodiché fatto questo c'è stato il via libera e lui ha potuto fare il bosco verticale e questo è stato diciamo una mossa molto intelligente a parte di Catella naturalmente però anche che riflette un po' il metodo che si è avuto a Milano in Italia se si vuole in generale per cancellare la conflittualità cancellare il dissenso cancellare qualunque senso di critica e questa è stata una cosa che ha avuto per me una data abbastanza poi precisa cioè due date se vogliamo una è stata l'elezione di Pisapia perché Pisapia è stato eletto apparentemente sostenuto dal basso io me lo ricordo benissimo mi ricordo benissimo che allora Boeri era convinto di vincere le primarie perché dice io sono l'unico candidabile Pisapia è troppo estremista eccetera eccetera e invece vinse Pisapia sostenuto dall'associazionismo e il popolo cosiddetto arancione era convinto di a quel punto entrare in un'epoca fausta per il terzo settore associazionismo il mondo no profit che però era un mondo infinitamente più conflittuale di quello che è adesso cioè adesso dal momento in cui Pisapia è entrato a governare sostanzialmente è iniziata una trasformazione di quella che era la cosiddetta il mondo della partecipazione in un mondo di appunto stakeholders sostanzialmente cioè una forma di portatori di interessi non più persone che facevano lavoro sociale mettevano energia collettiva nella città ma persone che appunto erano portatori di interessi e quindi con cui si poteva trattare sostanzialmente per fare delle cose che in qualche modo sono diventate sempre più rappresentazione di una collaborazione di tutta la Milano dal basso ai progetti cittadini da un lato e dall'altro hanno dovuto assolutamente abbassare i toni del conflitto questa è stata una trasformazione la seconda data importantissima è chiaramente stata l'Expo perché ricordo perfettamente fino all'Expo dice a Milano esisteva la critica esisteva diciamo comunque un'idea di non voglio dire che si fosse come in Francia però insomma esisteva un dibattito sulle cose che succedevano e invece con l'Expo c'è stato proprio un cambio totale di passo un cambio sostanziale di passo quasi militare diciamo da un certo punto di vista infatti nel mio libro mi facevano notare gli editor dice togli tutte queste metafori militari però in effetti evidentemente per me questa cosa era molto presente in cui sostanzialmente è stato annullato qualunque possibilità di critica io l'ho vissuto molto da giornalista perché non ho potuto più scrivere quasi da nessuna parte personalmente le cose che scrivevano non erano più accolte dagli stessi giornali che prima le accoglievano è stato impossibile da quel momento in poi si è creata una specie di cappa dell'imposizione dell'entusiasmo cioè chi aveva qualcosa a dire a partire proprio dall'Expo in sé che ci ricordiamo tutti io penso chi stava a Milano in quel periodo non era un successo l'Expo è stato sull'orlo il fallimento fino al giorno stesso in cui è iniziato ancora si era in dubbio se potesse iniziare insomma posso dire vai partite ma state scherzando cioè quando il giorno prima iniziasse mancavano ancora i capannoni eccetera per tre mesi non c'era nessuno io mi ricordo ancora a luglio da giornalista ancora andavo c'erano questi viali deserti poi la campagna stampa è stato il vero successo di Expo Expo è stata anche l'unica esposizione universale senza legacy peraltro questo lo so precisamente perché io sono stata una delle persone che ha partecipato alla stessura del dossier di conferma dell'Expo quando ancora c'erano tutti quelli e poi sarebbero finiti in galera Paris e tutti quelli lì e mi fu chiesto di proprio occuparmi delle pagine della legacy faccio beh che scrivo niente scrivi il vuoto perché non c'era proprio c'era proprio un'idea di non pronunciarsi sul cosa ci sarebbe stato dopo mentre invece Londra che per carità è stata anche quella criticata criticabile tutto quello che vuoi però aveva puntato tutto sulla trasformazione cioè c'erano dei piani molto precisi su cosa sarebbe successo dopo Milano non si sapeva poi a un certo punto è stato detto ci sarà un grande parco invece sappiamo adesso ci sarà mai sono milioni e milioni di metri cubi versati su su questi terreni detto questo quel momento là diciamo ha sancito un grandissimo questo è stato il grande successo di Expo Expo alla fine è riuscito a forza di comunicare 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 che era un grandissimo successo effettivamente attirare persone da settembre a fine novembre cioè quando è finito adesso non mi ricordo più la data precisa e poi da allora in poi effettivamente c'è stato questo successo comunicativo i milanesi erano orgogliosi di questa città e finalmente era sulla mappa era attrattiva era 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 una cosa che non era più quell'immagine era spettacolare cioè prima io mi ricordo benissimo a Milano quando io dico era grigia era nota non intendo grigia nel senso brutta era considerata una bellezza da intenditori sostanzialmente chi era molto colto chi conosceva la qualità dell'architettura chi conosceva la bellezza dei cortili interni chi conosceva c'è chi ci voleva però un pezzo diciamo una cultura più ampia che per apprezzare Milano che per apprezzare un posto qualunque altra città italiana ha dotato un centro storico integro Milano aveva stata bombardata ma tutta la qualità proprio del tessuto urbano era una cosa un po' da intenditori e naturalmente aveva quelle doti riservatezza eccetera eccetera lavoro eccetera ora quindi milanesi invece erano felicissimi effettivamente milanesi storici o acquisiti di stare finalmente in un posto spumeggiante diciamo attrattivo vibrant come si dice e quindi per un certo periodo è andato così nel frattempo è successa anche un'altra cosa cioè apparentemente i flussi di capitali hanno cominciato a concentrarsi qui i capitali privati c'è anche da dire che non è che tutto questo fosse sia scrivibile al merito diciamo di avere fatto di chi ha fatto l'expo di chi amministrava eccetera eccetera perché i flussi arrivano dove si concentrano i flussi privati arrivano dove si concentrano i capitali pubblici e i capitali pubblici erano stati concentrati tutti qua cioè questa è una cosa importantissima i divari territoriali che diciamo sono stati creati dall'alto per carità ecco in questo lui ha ragione Luca cioè voglio dire questo è proprio un cambiamento globale prima c'erano gli stati che distribuivano le risorse sul territorio poi diciamo con l'avvento del neoliberalismo gli stati hanno cominciato a concentrare le risorse in zone vincenti aree vincenti città vincenti competitive sul territorio globale Milano ha vinto quella partita con l'expo mentre per esempio Torino ci aveva provato e ha fallito miseramente e tutti i capitali pubblici sono concentrati su Milano quindi capitali privati per evitare di rischiare diciamo per abbassare la soglia del rischio e perché era diventata attrattiva hanno cominciato a venire quindi questo meccanismo si rinforza però ripeto questo a che prezzo a prezzo del silenziamento di qualunque cosa qualunque manifestazione di dissenso che potesse oscurare la buona immagine della città perché le politiche dell'attrattività sono fondate su questo sull'immagine l'immagine non deve essere toccata per esempio non so se lo sapete ma il turismo è una delle massime cause di censura diciamo della libertà di stampa perché nei paesi dipendenti al turismo l'immagine non può essere assolutamente toccata non si deve sapere niente di rivolte tumulti di terremoti di sgrazie malattie eccetera eccetera queste cose se le politiche si basano sull'attrattività la diciamo la conseguenza è che nulla deve nulla deve offuscare la buona immagine di una città di un territorio ecco questo è quello che succede che perché in Francia invece ci sono quelle che io non chiamerei partecipazione ma conflitti pazzeschi perché in Francia la popolazione è ancora convinta come è normale che sia che ha di avere di possedere dei diritti dei diritti e di avere dei diciamo in qualche maniera di soffrire di un welfare ancora di uno stato sociale per la quale è opportuno per i quali è opportuno lottare e lo stanno facendo qui invece le persone sono state convinte e non non passivamente anzi sono state convinte che si devono attivare per promuovere la buona immagine del proprio paese della propria città della propria cosa e che assolutamente non devono intracciare il ben fare di chi fa cioè qui c'è l'idea che il fare è una cosa costruttiva e di per sé buona quindi poco giudicabile invece il criticare il protestare è equiparato a una cosa pigra a un'attività pigra che si fa dal divano questa è la metafora che viene usata distruttiva e che non ha nessun valore se non ha una parte costruttiva ma questa è una follia perché ricordiamoci sempre tutti questi diritti lo stato sociale sono stati conquistati non perché un'elite benevolente ha concesso generosamente alle persone sono stati conquistati perché a c'era la paura del comunismo b perché c'erano le persone che lottavano per decenni in maniera sanguinosa quindi per evitare che arrivasse la rivoluzione russa non so costruttivi sono costruttivi di uguaglianza ed è una cosa che qua si è dimenticato per molti anni per questo arco di anni io penso ottimisticamente invece che adesso stanno sta rinascendo non solo a livello lo scontento ma che si possa creare una dialettica ma no ma anche a livello internazionale a livello di studi eccetera una critica a questo modello che poi è Milano ma è anche quello di molte altre città fortissima e quindi io penso che in questo momento tutta questa movimenti di protesta eccetera si stanno finalmente cominciando a riemergere questo penso che sia ottimisticamente il modo per cambiare le cose grazie allora abbiamo parlato per 45 minuti un altro giro intero forse ci porta via molto tempo perché tremiamo tutti però vorrei chiedervi se voi volete rispondervi o aggiungere qualcosa tra di voi oppure se qualcuno ha già qualche invettiva pronta altrimenti facciamo un altro giro io dico una cosa velocissima a Lucia Tozzi uno non capisco dove vedesse il conflitto negli anni nei primi anni dieci sotto le amministrazioni diciamo prima di Pisapia perché onestamente io di conflitto dal basso quando c'erano i sindaci Formentini e Albertini non ne ho visto forse c'era da qualche parte in qualche piccolo collettivo ma voglio dire non arrivava a essere un tema di battuta centrale due è vero che il conflitto è fuori era di dialettica e può immaginare un altro mondo possibile e quindi è benvenuto ricordiamoci anche che il conflitto se io ricordo gli anni settanta in questa città beh era un posto dove i ragazzini si ammazzavano per strada tutti i giorni c'era un morto al giorno c'era tanto conflitto ma questa città è anche una città con tutto i problemi che ci sono la negatività e siamo felici se tutto viene rimesso in discussione voglio dire io mi ricordo la Cascina Cuccagna che era un posto abbandonato e adesso siamo qua in un centinaio di persone a due gradi sotto zero a parlare di Milano mi ricordo l'isola Cosera quindi va bene tutto e le periferie d'accordo è la prima volta nella sua storia questa e questo decennio in cui le periferie hanno un nome perché ci sono i trapper cioè hanno prodotto cultura prima era Testori un signore borghese del centro che andava a raccontare cosa succedeva a Rocco e i suoi fratelli per la prima volta nella sua storia in questo decennio le periferie di Milano hanno prodotto cultura e la gente i ragazzini sanno dove è Rozzano dove è Calvairate perché ci sta della gente che produce arte quindi va benissimo la critica va benissimo la dialettica però questa esaltazione del conflitto che presuppone che prima ci fosse una città animata e dialettica non la condivido posso rispondere o devi fare il giro? figurati se fai se fai io ho scritto un bellissimo articolo su Passanger sui parchi delle periferie che sono meravigliosi parchi di Milano Cave Nord Parco Nord Parco Sud e se esistono e se sono pubblici di nuovo non è perché dei sindaci più illuminati eccetera ma perché ci sono stati conflitti mostruosi ai tempi per fare sì che quelle terre abbandonate eccetera diventassero parco pubblico cioè quando io dico che il conflitto è trasformativo e porta altro che cascina con cagna là stiamo parlando di ettari ettari di verde rimasti pubblici io vorrei dire due cose uno sul conflitto uno sul ruolo di Milano nel panorama nazionale sul conflitto una cosa è vero con la giunta Pisapia la città ha vissuto una fase di pace che io però definirei di pacificazione questa era una città che non era stata pacificata dopo Tangentopoli e che Giuliano Pisapia e la sua giunta hanno riunito chi di noi ha vissuto quei primi anni 90 anche molto piccolo e poi successivamente le amministrazioni di destra ricorda che qui c'era una cappa che era data da quella vicenda che non era mai stata tolta e Giuliano io mi sento di attribuirgli questa cosa insieme a quello che diceva Giacomo Papi cioè un'idea di utilizzo dello spazio pubblico come spazio di tutti i cortili c'è stata una piccola ordinanza comunale che ha permesso di tornare a giocare nei cortili per i bambini perché un sacco di cortili milanesi erano cortili dove i bambini c'era il divieto di gioco esempio Sciocco ma poi c'è Piano City quindi è stata fatta un'operazione di pubblicazione e di pacificazione della città che io rivendico come positiva primo punto secondo punto che vorrei sollevare che è mancato e che io sento molto è la discussione sul ruolo nazionale di Milano questa è una città che vive in un paese di cui spesso si dimentica che sconta tutti i problemi dell'Italia perché la questione degli stipendi bassi è una questione italiana la questione di uno scarso investimento sull'uelfare è una questione italiana la questione della denatalità e di non pensare alle politiche per le famiglie è una questione italiana e Milano fa sempre fatica a pensare a se stessa come a un traino rispetto a una discussione che deve essere una discussione nazionale questo secondo me è un peccato cioè Milano pensa per se stessa non pensa mai a quello che può fare per l'Italia e secondo me anche nella discussione di oggi questo manca perché non sono solo problemi milanesi ma io vedo in Milano e mi spiace se pecco di ottimismo però la possibilità di trainare il dibattito nazionale e mi dispiace ogni volta che nella nostra città ci si ferma qua come se questa città non avesse la possibilità di condurre una operazione dialettica con il resto d'Italia che non fa mai ma Milano non cambia se non cambia l'Italia ti chiederei legandoci a questa cosa che ha detto Lì a Quartapelle dal tuo punto di vista insomma di persona che scrive spesso di questi temi e che ne scrive sia su giornali che su social in cui comunque hai un riscontro di pubblico diretto quant'è il rischio di dare la responsabilità di questo fenomeno a una parte politica anziché a una gestione diciamo senza un colore senza uno spettro che domanda complicata no perché mi fa lo vedo anche nel fatto che forse c'è anche una timidezza nel muovere certe critiche perché finalmente cioè io da cittadino milanese poi sono cresciuto nell'Interland però effettivamente dici cazzo finalmente abbiamo delle giunte che non sono Albertini e Moratti c'è effettivamente una timidezza a alzare forse la mano no questo questo che dici è verissimo perché faccio un esempio su le ultime lezioni che ci sono state di di sala dove c'è stato se non ricordo male un astensionismo importante e secondo me questo è dovuto a un a un certo pensiero che anche io ho fatto che forse non è non è il massimo del pensiero ma nessuno vuole vincere un Nobel però è lasciare decidere gli altri cioè tanto vincerà lui io non me la sento di andare a votarlo perché siamo arrivati a quel punto lì a un certo che è un limite che è un limite e quindi vediamo come va e questo è un dato è un dato importante si fa sempre una certa fatica a andare contro comunque una giunta progressista che fa tante cose cioè se a me chiedete parlami di Milano i posti che a me vengono in mente sono tutti belli cioè a me non viene in mente di primo acchito ma forse perché non vivo in un in un in un contesto c'è una parola che piace usare a tutti che è privilegio che mi fa schifo questa parola che abolirei ma sono tutti lì che dicono grazie al mio privilegio di qua di là di su di giù io pensando prima di di venire qua alle prime cose che mi vengono in mente di Milano sono tutte cose belle sono posti belli se tu vai su Instagram ci sono tanti profili che ti parlano di posti stupendi dove si mangia benissimo c'è la birra artigianale il vino naturale e tutte le le importazioni svedesi di dolci cioè ti vengono in mente delle cose belle eppure noi siamo qua e io per prima perché poi mi accaloro perché da milanese io sono nata sono nata qua e ho sempre vissuto qua l'atteggiamento che vedo in me che vedo anche nelle persone che conosco è quello un po' della moglie tradita io mi sento mi sento così non riesco bene a focalizzare qual è il punto e con chi è stato fatto questo tradimento ma lo scopriremo magari voi avete delle idee vi percepisco tutti malati comunque fa un freddo incredibile dicevo io mi accaloro perché noi abbiamo sempre vissuto l'essere milanesi con tanto orgoglio c'è sempre piaciuto dire sono di Milano rispetto a perché poi ti vengono a dire c'è anche una dose poi di benalterismo che è molto presente sui soci ma cosa ti lamenti tu mica stai a Roma dove vanno a fuoco gli autobus da soli ho capito a maggior ragione io ho sempre vissuto in una città che io ho percepito come funzionale ogni tre minuti passava il tram adesso non succede più che ogni tre minuti passa il tram sarà che io ho 40 anni e quindi è la generazione di cui tanto si parla di inetti e persone che non riescono a quagliare nulla però siamo anche quelli che hanno i bambini piccoli che comunque hanno più o meno chi ce l'ha un lavoro che fa da da un po' di anni e chi non trova il lavoro sono tante le componenti sono tante però adesso mi sono persa su tutto ma mi perdonerete però si c'è molta difficoltà ad andare contro una parte politica che è percepita come buona e giusta perché ha fatto delle cose assolutamente coerenti e ci ha fatto vivere bene perché poi è un attimo che diventi sei un fascista che va tanto di moda adesso dire qualunque tipo di dissenso è perché sei un fascista io se posso dire una cosa su questo a me pare che questo discorso sui limiti di Milano sul fatto che la città nella nostra percezione è cambiata io credo che non sia un caso che lo stiamo facendo soprattutto fra di noi cioè in quella fascia di persone fra 25 e 40 che è un po' quella che sta peggio in tutto l'occidente non solo a Milano ne parlavo un po' con altre persone in questi giorni a Milano ci siamo noi che è la fascia di persone che non riesce a comprare casa che esce a cena e spende 26 euro per una pizza che appunto ha delle difficoltà che non riesce a trovare posto all'asilo il cui stipendio è più basso di nostro cugino che lavora in Norvegia ma a volte anche la metà e però penso anche che a Milano invece ci sono gli altri due estremi che invece hanno delle opportunità i ricchi continuano ad arricchirsi in modo abbastanza anche volgare e esplicito davanti a tutti ma c'è un discorso da fare anche sui più poveri a Milano nel senso che è vero che Milano ha un indice Gini sulla disuguaglianza importante ma Milano è anche una città in cui proprio perché arrivano capitali circola una certa ricchezza circola un certo benessere rispetto ad altre città ci sono anche delle possibilità in più sarà aneddotica ma io sono nato e cresciuto in un quartiere molto a sud che è Grato Soglio adesso vivo in un altro quartiere di un profilo simile che è Gianbellino però se io penso al mio gruppo storico di amici su dieci più o meno quasi tutti siamo riusciti a laurearci e siamo i primi laureati in famiglia io stesso sono il mio primo laureato nel ramo diretto della mia famiglia e veniamo tutti da lì da Grato Soglio da Rozzano e io non credo che sarebbe successa la stessa cosa se fossimo stati di Belluno per dire 4 su 10 abbiamo trovato un lavoro soddisfacente anche piuttosto ben pagato compatibilmente solo io abito dentro il territorio comunale di Milano quindi l'ascensore sociale se vogliamo usare questa espressione un po' vetusta secondo me in qualche modo continua a funzionare per le persone che comunque non provengono da una fascia medio-medio alta certo si è inceppato si inceppa su alcuni piani se ci sono persone che appunto hanno un lavoro guadagnano uno stipendio rispettabile ma sono espulse dalla città perché non riescono a trovare casa è possibile che poi si ricrei quella dinamica di cui stiamo parlando per cui la loro frustrazione viene riversata o sul sindaco parafulmine o sulla città in generale o su una cosa che non funziona lì forse torniamo al mio primo discorso cioè di delimitare bene i responsabili però anche qui non l'ho fatto apposta ma ho fatto una narrazione a cerchio non so se ti sei accorto ho fatto brevemente anche un minuto risposta allora io su questa cosa del sindaco parafulmine non sono per niente d'accordo perché appunto dal 2015 Milano adesso non ho memoria dei numeri magari te li ricordi meglio tu però ha accumulato l'80% degli investimenti rispetto a tutto il resto d'Italia ha accumulato una quantità di investimenti appunto quantificabili in un numero imprecisato di miliardi eccetera eccetera il fatto che a Milano dove è atterrata tanta ricchezza si di appunto nel famoso forum dell'abitare l'assessore Maran ha detto perché ci sono 10.000 case popolari di cui un tot del comune adesso non mi ricordo sono 4.000 sfitte un terzo dice no 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 quante sono quelle sfitte in quota comune che sono sfitte diciamo nel totale le case popolari sono 70.000 due terzi un terzo regione comune ma di cui 10.000 sono sfitte di cui non mi ricordo esattamente quale numero il comune noi non abbiamo i soldi per ristrutturarle sono sfitte perché non ci sono i soldi per ristrutturarle e quindi il piano lanciato in questi giorni a Maran è disfarsi della parte comunale delle case popolari per darle a delle aziende che poi le affiteranno ai loro lavoratori ma non a canone sociale evidentemente ma a canone probabilmente di sottomercato comunque non è chiaro ancora cosa ha detto esattamente questa cosa è gravissima cioè che nella città che ha preso l'80% di investimenti in Italia cioè ha spolpato il resto d'Italia a proposito del ruolo che Milano ha in Italia non abbia cioè aumenti il prezzo degli autobus non abbia i soldi per ristrutturare le case popolari quando le ristrutture non le assegna ce ne sono tantissime ristrutturate non assegnate queste sono tutte cose che ho considerato recentemente quindi ripeto è gravissimo perché ed è una precisa responsabilità del sindaco perché dipende tra le altre cose per esempio dagli oneri di urbanizzazione è noto è una cosa che è stata studiata e ristudiata e viene sempre citata tra l'altro dall'appena purtroppo morto Roberto Camagni che era un economista urbano che se a Monaco gli oneri di urbanizzazione montavano a 30% qui al 3 barra 5 adesso recentemente è stato detto Milano non aveva aumentato abbastanza come da legge come da legge gli oneri di urbanizzazione ma adesso li adeguiamo del 1% 2% cioè del minimo sindacale e in tutto questo significa che in questi anni ha perso una grossa quantità di denaro che non è stato restituito ai cittadini cioè questo processo di lasciare che la città attiri ricchezza ma la lasci circolare anzi accentrare in un numero sempre più ristretto di mani è una precisa responsabilità dell'amministrazione che sta lì da anni cioè non è che è una tu dici appena arrivato l'anno scorso e lì da anni e consapevolmente avalla questo tipo di politica quindi voglio dire non ci può essere la scusa non ci sono i soldi questa è una di quelle cose diciamo di quegli assunti di tipo tacceriano cioè non ci sono più soldi non c'è alternativa non possiamo fare altro che fare questo non è vero non è vero a livello nazionale perché quando c'è stato poi da spendere soldi per il 110% sono stati tirati fuori un sacco di soldi che ci indebiteranno indebiteranno tutti i taxpayers italiani dal nuovo idolo della sinistra fra l'altro Giuseppe Conte appunto nuovo idolo non entriamo nell'ambito Giuseppe Conte quando c'è stato bisogno di fare le armi di mandare le armi all'Ucraina sono stati trovati soldi e ci sono qui a Milano soldi allocati continuamente Lucia scusami due grandi investimenti che sono stati fatti in questi anni a Milano sono state due linee della metropolitana e vogliamo dire da dove passano no perché è importante ci sta tutta l'area sud-est di Milano che non viene coperta e invece servono l'area che va da aeroporto di Linate a San Babio già servita dalla linea del tram Giambellino Lorenteggio questo è dall'altra parte anche tra Forlanini i tre ponti una delle poche fermate passerebbe vicino al parco pubblico Forlanini e non c'è la fermata beh c'è la fermata dove c'è il quartiere dei tre ponti insomma cioè nel senso secondo me poi io non io non sottovaluto il fatto che ci sia un problema serio sulla casa a Milano ma a Milano il 75% delle case sono di proprietà il 25% di chi abita a Milano vive in affitto e questo è un problema serio in particolare un po' per le nuove famiglie da un lato e dall'altro lato per chi si trasferisce qui e vuole stabilirsi qui e c'è un rischio vero reale che quel ascensore sociale di cui parlava Luca Misculini che ancora esiste in questa città si inceppi a partire dal tema immobiliare a partire dal tema immobiliare cioè è il tema immobiliare che inceppa l'ascensore sociale anche quello del lavoro anche quello del lavoro dipende io l'ottimismo di Luca non lo condivido ho qui dei testimoni architetti che possono dire la miseria la miseria della classe creativa in questa città certo però io dico dipende mentre sulla casa c'è un problema serissimo molto diffuso su chiunque non abbia una proprietà immobiliare in questa città mentre il lavoro è in bilico secondo me ci sono alcuni settori dove ancora funziona e tanti settori in particolare i settori dei servizi che vanno dalle educatrici delle scuole oppure le educatrici dei nidi ai lavoratori delle mense alle guardie giurate a chi ha i contratti di portineria a tutta la classe media disagiata di cui si è scritto tanto che sono forme diverse di lavoro che soffrono ma non è tutto il lavoro mentre chi non possiede casa a Milano tutti soffrono quello è un punto vero reale che va affrontato con delle politiche e anche pieno di proprietari poveri oltre che di lavoratori poveri questa è una città dove poi avere una casa non sottovaluto i problemi che ci sono ma penso che vada anche dato atto che una parte delle cose che sono state fatte possiamo dire belle o brutte che siano a partire dalle due linee delle metropolitane che sono stati degli investimenti che in altre parti d'Italia o non è possibile fare perché a Roma non si possono fare due linee della metropolitana nel tempo che sono state fatte a Milano punto punto non si possono fare certo sono gli scavi non è solo una questione di scavi è proprio una questione di una città che non riesce a raccogliere rifiuti è una città che è fallita Roma purtroppo è la capitale del nostro paese per me si può anche criticare benissimo tutte le parti politiche che l'hanno governata e la stanno governando però è per questo che io dico secondo me Milano deve mettersi al centro del paese ragionare al centro del paese perché alcune cose qui si possono fare altre non si possono fare alcune cose qui hanno una tensione maggiore il tema abitativo a Milano è un problema è un problema reale si deve discutere lo si sta discutendo non è detto che tutte le politiche che sono in atto sono politiche buone però semplicemente se parliamo degli investimenti non dimentichiamo che sono stati fatti dei grandi investimenti pubblici di cui tutti quanti noi beneficiamo a partire dalle linee della metropolitana punto io penso che veramente è tutt'altro che redistribuire qui la vera cosa che manca è la redistribuzione tra le classi e sul territorio italiano tutto nel senso che il problema di Milano ripeto se Roma nel frattempo fallisce se Napoli deve firmare un patto per Napoli che somiglia a quello della Grecia con Draghi se le altre città languono eccetera eccetera è anche perché accentra tutto Milano Milano accentra tutto accentra tra le classi accentra anche rispetto al territorio circostante perché questa è un'altra cosa incredibile si dice sempre bisogna ragionare a scala metropolitana ma Milano da un po' di anni sta impoverendo anche la fascia immediatamente circostante da cui invece di cui prima a cui prima era invece molto più legato e sta di fatto che tra l'altro sempre l'assessore Maran lo dice anche molto esplicitamente nel suo libro dice che sostanzialmente a lui interessa alle città di successo interessa attirare una fascia di abitanti short term che vengono ma poi magari andranno via che sono più mobili più progressisti più naturalmente tolleranti che vanno in bicicletta che sono magari più attivi nei quartieri eccetera eccetera e sostanzialmente non c'è un motivo per trattenere gli abitanti invece storici perché quelli perché non possono andare a Vigevano io ho sentito in un'intervista recente su Radio Popolare chiedere a un signore che diceva io sono un espulso da Milano sono dovuto andare a Vigevano ma mi sembra che lei stia bene a Vigevano gli ha detto Maran no sta bene c'ha la campagna c'ha la macchina il garage c'ha la villetta di che si lamenta e quello diceva ma io stavo meglio a Milano se permette mi faceva piacere rimanere nel mio quartiere ecco questa cosa qui questa politica è apertamente perseguita quella di avere un ceto di persone più elevate tra l'altro anche gli studenti non vengono qui gli studenti disgraziati vengono solo quelli di ottima famiglia i cui genitori possono consentirsi secondo me andiamo in una parte in cui mancano un po' dei dati direi che vengono solo gli studenti di ottima famiglia a Milano anche perché se c'è un problema abitativo è proprio perché il fatto che non ci sono così tante persone di ottima famiglia che non riescono a permettersi gli affitti e i mutui che ci sono no? no non ho capito nel senso è un po' vago dire che solo gli studenti di ottima famiglia vengono in questa città ma d'altra parte chi si può permettere di affittare una stanza a mille euro o di comprare una casa no va bene Giacomo vero ma infatti questa cosa degli abitanti short term è un grosso problema volete venire a fare domande? io evidentemente è un problema gigantesco questo della casa e evidentemente le politiche della casa sono inadeguate dopodiché il tema della gentrification c'è da quando ero bambino io nel senso che venivano espulsi quelli più poveri dal centro verso la periferia quello che è successo negli ultimi dieci anni a Milano io adesso non ho i dati ma ha raggiunto i suoi massimi storici di popolazione come nella fine degli anni 60 se non sbaglio quindi ha ricevuto una massa di persone che hanno bisogno di case e quando questa dinamica si crea è evidente che esplode se esplode la domanda si alzano offerte insomma e quindi sono anche dinamiche demografiche questo senza come dire togliere entrare nel dibattito su chi ha la responsabilità di questo per riallacciarmi alla prima domanda che mi hai fatto e cioè se c'è un'esposizione secondo me forse è interessante dire che io ho lanciato abbiamo fatto un concorso al laboratorio Formentini di racconti su Milano rivolti a persone fra i 18 e i 30 anni 35 anni ne sono arrivati 400 l'immagine che viene fuori di questa città è un'immagine davvero violenta di grande insoddisfazione e rabbia un'immagine più negativa di quello che mi aspettassi ma se dovessi dire cosa tiene insieme quella rabbia è come una non risposta alle promesse fatte allora mi viene il dubbio ma lo butto lì che forse questa unione di capitalismo e social di cui parlavo prima ha alzato le promesse di questa città cioè non è che la mia generazione io sono un po' più vecchio un bel po' più vecchio di Luca Miscolin si comprava la casa e si iniziava a lavorare e ci si pagava l'affitto e si accendeva il mutuo o c'erano i posti all'asilo minido no ve lo posso assicurare non è che negli ultimi dieci anni un po' questa città ha promesso talmente tanta ricchezza talmente tanta felicità sui social che come dire giustamente poi la gente arriva qui si trova a vivere in un buco pagando e si incazza cioè non c'è anche un tema proprio di pubblicitario in qualche modo dell'immagine di felicità che Milano ha dato di sé che ovviamente dopo un po' produce insoddisfazione e rabbia questo discorso partendo da qui è intrinsecamente legato al resto d'Italia da cui la gente arriva e decide di andare ad abitare a Milano quindi chiaramente non può essere soltanto legato a come è stata amministrata la città ma va necessariamente legato a un contesto sistemico che riguarda tutto il territorio nazionale perché qui continua ad arrivare un flusso chiaramente dalle aree interne dal resto della Lombardia dal sud Italia e che qui arriva per ovvie ragioni perché nel bene e nel male nonostante la tristezza la frustrazione di vivere in una città che comunque non restituisce quello che promette tornare nel paesino del sud tornare nell'area interna tornare nella valle montana probabilmente genera ancora in noi di questa generazione di questa fascia d'età la sconfitta quindi però c'è anche da dire questo sicuramente c'entra la grandissima operazione pluriennale di marketing su Milano per cui è bello stare nella cascina cuccagna che 15 anni fa era terribile però il problema di questi interventi di chiamiamoli rigenerazione urbana di qualificazione su Milano a me sembra si stiano tutti omologando su una certa fascia su una certa offerta di intrattenimento che ha una sua fascia di prezzo e che automaticamente torniamo sempre lì esclude le fasce più deboli faccio un esempio concreto Parco Trotter zona Loreto l'operazione che è stata fatta di ristrutturare l'ex convitto che adesso è in gestione appunto un consorzio di enti del terzo settore storico milanese a disposizione degli spazi per le associazioni per carità il Parco Trotter è stato ripulito perché quella era una zona di spaccio di prostituzione però adesso questi spazi a disposizione delle associazioni sono vuoti perché i prezzi per l'affitto sono altissimi c'è un bar con dei prezzi altissimi i abitanti intorno al Parco Trotter sono persone straniere sono famiglie che hanno un reddito basso lì non ci vanno quindi non è un'operazione fatta veramente per il quartiere sì per carità gli spacciatori adesso lì non ci sono saranno spostati 100 metri più a nord 100 metri più a sud non lo so non si vedono però non è un'operazione fatta a beneficio dei residenti di quel quartiere lì perché di sicuro le signore arabe che abitano in quella zona lì a fare l'aperitivo in quel bar non ci vanno di sicuro punto numero uno punto numero due la questione diciamo delle e questo si collega con quel sentimento che diceva Papi la periferia in qualche modo non è adesso è conosciuta non è qualcosa di lontano non ne sono per niente convinta la periferia abbiamo presenti dei nomi che rimangono dei luoghi esotici molto lontani dal centro di Milano dove in realtà si va solo i ragazzi vanno se hanno voglia di vivere pericolosamente dove i ragazzi che lì invece vivono si ghettizzano per cui non c'è l'avvicinamento non c'è la riduzione della distanza tra le periferie stiamo parlando di periferie che in realtà è un'unica soluzione continuativa nella struttura della città non sono luoghi distanti e quindi in realtà tutto quello di cui stiamo parlando mi sembra più un racconto che non corrispondente poi a una verità di chi vive poi in questi luoghi grazie ah no poi l'ultima cosa stiamo parlando solo di casa ma non stiamo trattando un altro argomento importante cioè i servizi lì dove la sciensura sociale di cui parlavano si immobilizza si ferma si blocca e casamai va verso il basso cioè quando si decide di mettere su famiglia a Milano per quanto abbiamo trovato siamo stati prima a laurearci a trovare lavoro a trovare casa è finita cioè basta il sogno di Milano e finisce lì i servizi per le famiglie in idile materne si stanno addirittura esternalizzando e quindi non so cioè non so che stipendi servano per vivere a Milano nei prossimi decenni vogliamo raccogliere un altro intervento qualcuno vuole scusate sto tremendo dal freddo no io accolgo la cosa che diceva Davide prima di fare un po' il violento e l'indignato vai il discorso di Miss Kulin che sembra mi è sembrato un po' quello di quello che ha vinto l'Oscar per miglioratore non protagonista che diceva sono arrivato con la barca dal Vietnam i miei genitori allora il sogno americano cioè questa idea della trickle down economy molto regagnano cioè non confonderei diciamo la soddisfazione del riscatto sociale e personale con un modello di città e secondo me questo è un problema perché molti di noi hanno questa narrazione cioè siccome ce l'ho fatta io allora va bene tutto invece vorrei chiedere a Lucia Tozzi dopo aver letto il suo libro secondo lei se le persone responsabili secondo la sua narrazione di quella che a Milano oggi erano in buona fede oppure no cioè se sapevano quello che stavano facendo se semplicemente hanno detto non c'è alternativa questo è l'unico modo bisogna per forza andare in questa direzione oppure se lo facevano per un guadagno personale o non so grazie guarda io credo che se per responsabili tu adesso intendi diciamo chi governa in qualche modo io penso che sia ok sì no allora ecco chiaramente appunto una delle cose che io dico nel libro è che secondo me non ha mai molto senso prendere come nemici il capitale cattivo il sindaco cattivo eccetera eccetera in realtà appunto una delle cose che succede è che veniamo tutti presi in questa ideologia tutti sicuramente tutti in qualche modo comunque contribuiamo cioè quando noi andiamo a fare l'aperitivo in maniera frenetica stiamo contribuendo al modello Milano quando noi io ho comprato a casa all'isola all'inizio degli anni 2000 evidentemente anch'io ho gentrificato che è un classico no cioè l'osservatore la gentrificazione che gentrifica non c'è dubbio però la cosa importante non è essere puri io sono vegano sono non mangio carne prendo solo cose biologiche sono perfetto sono puro non faccio niente di male tutti viviamo immersi nelle contraddizioni l'importante però è riconoscerle secondo me da parte di chi governa in generale da un bel po' di tempo diciamo della politica c'è una mancanza di immaginazione furiosa ed è una cosa che spicca soprattutto in Italia perché effettivamente le sinistre in altri in tutti quasi tutti gli altri paesi europei e perfino negli Stati Uniti hanno visto altre cose cioè c'è stato Bernie Sanders c'è stato Casio Cortez c'è stato Corbyn perché a chi può piacere o non può piacere comunque ci sono altri modelli di sinistra che cominciano di nuovo finalmente a parlare di giustizia sociale stato sociale eccetera eccetera e qua invece sembra che sia un discorso legato al passato atavico un passato che non può mai più tornare cioè c'è molto quella idea there is no alternative della taccia questo siamo proprio quindi c'è proprio una mancanza di immaginazione e di contatto poi con con le esigenze ormai manifestate io direi da larghissime fasce della popolazione non solo milanese ma del resto d'Italia che ormai viene relegata ripeto sempre in questo in questo stato di appunto lamento al limite fascismo populismo qualunque cosa il nemico va respinto tra i reazionari ecco e questo secondo me è proprio ripeto prima di ogni altra cosa prima di una responsabilità di tipo corrotto no? quello è della Goldman Sachs quello è di Morgan Stanley cioè tutte queste cose qui c'è proprio in primo luogo c'è proprio una mancanza di immaginazione l'idea che c'è ancora stiamo a rincorrere questo unico modello che diciamo che per quanto riguarda la sinistra risale essenzialmente a Blair a Clinton cosiddetto liberalismo progressista quindi mi auguro che prima o poi questa immaginazione si accenda ecco per quanto riguarda invece la complicità degli intellettuali ma anche di persone che in qualche maniera hanno partecipato in maniera più più ingenua secondo me è adesso che si sta prendendo coscienza per molti anni le persone non hanno capito non si sono accorti che cosa stavano facendo tacendo anche facendosi forza per non lamentarsi mai ecco questo io sono abbastanza convinta che adesso però anche nell'ambito per esempio del terzo settore di chi lavora nel lavoro sociale c'è stata questa appunto entusiasmo iniziale in particolare qua a Milano di quando è stato eletto Pisapia eccetera un'illusione di poter partecipare di più che poi si è risolta però in una constatazione questo ha raccolto moltissime testimonianze soprattutto di chi lavorava nelle cose più dure nel lavoro sociale più duro cioè per esempio con le ragazze respinte dalle famiglie in situazioni difficili le ragazze madri gli immigrati nei quartieri popolari eccetera c'è proprio un disagio di chi opera in questi settori che dice ma io facevo questo lavoro facevamo questo lavoro da anni radicati sul territorio eccetera eccetera i fondi pubblici di chi ci sostiene sono diminuiti sempre più siamo stati messi in questo sistema di bandi folle pensato molto appunto da management dalla scuola di mano di da Bocconi eccetera eccetera è stato il fatto che noi adesso dobbiamo continuamente dimostrare di essere innovativi di essere green di avere dei metodi di sostenibilità eccetera eccetera quando io facevo una cosa molto chiara che non ha bisogno di nessuna innovazione io non so assistevo le ragazze adolescenti in difficoltà e invece devo passare il mio tempo a partecipare ai bandi decodificare i bandi fare la valutazione fare la restituzione eccetera eccetera perché non ho neanche più tempo per occuparmi di queste ragazze oltre ai soldi ecco queste sono tutte consapevolezze stanno emergendo adesso Luca tu vuoi dire qualcosa rispondere alla cosa di essere legraniano più che altro forse mi sono espresso male non intendevo appunto che il benessere sgocciola dall'alto verso il basso più che altro mi premeva sottolineare il fatto che Milano rimane una città molto molto più viva molto più abitata da fermento e da stimoli che sono in larga parte arrivati con tutto il resto facevo l'esempio di Belluno ma non perché Belluno sia una città senza stimoli però io sono convinto che il mio amico nato e cresciuto nelle case popolari di Grattosoglio che adesso ha un dottorato io non sono sicurissimo che in una città appunto con meno stimoli e con meno opportunità avrebbe fatto la stessa fine io non sono sicuro che il ragazzo di vent'anni nato cresciuto in una casa popolare a Grattosoglio in una famiglia disastrata che adesso fa medicina in una città diversa sarebbe arrivato dove è arrivato guarda l'ho detto all'inizio che è aneddotica quindi è una nuova valutazione io sono nato e cresciuto a Grattosoglio conosco tante persone di Grattosoglio lavoro faccio un semi volontariato in una fondazione che opera a Grattosoglio quindi forse un minimo di beneficio del dubbio me lo concederei diciamo e tutto qua era questo il mio discorso sono d'accordo poi sul fatto che in realtà come dici tu la trickle down non funziona probabilmente non ha mai funzionato e da un punto di vista economico è fallimentare io dicevo che quello che si porta dietro ha anche avuto dei risvolti positivi ed è mi sembra un fatto non quello che si porta dietro la trickle down economy ma tutto il resto insomma la concentrazione di capitali pubblici e privati a Milano grazie io farei l'ultima battuta perché un po' dobbiamo levarci è un po' fa freddo però c'è tutto il posto per parlare dopo l'ultima battuta tu volevi già intervenire magari riesci a metterci dentro questa cosa magari no nel caso non è così fondamentale però prima hai detto non questa città deve essere secondo te più un modello per l'Italia volevo chiederti in che senso come ultima cosa io volevo rispondere prima di rispondere alla tua domanda per concludere volevo rispondere all'osservazione che faceva quella ragazza secondo me tu hai detto una cosa molto giusta su cui c'è da riflettere cioè Milano in questo momento non mantiene quello che ha promesso e questo per chi fa politica in questa città è un un elemento importante perché lo diceva prima Giacomo Papi non è che Milano ha fatto troppa pubblicità di quello che è Milano è sempre stata pubblicità Totò e Peppino che vengono a Milano vengono a Milano guardando questa città con un occhio che è un occhio ammirato di un mito e questo mito è un mito che diciamo non è solo il mito degli anni 50 è un mito precedente è un mito che ha animato un pezzo della storia d'Italia ok ma se questo mito che secondo me è un mito in alcuni momenti fondato su cose buone ripeto in particolare sul fatto che qui c'era lavoro e c'era del lavoro per tutti e il lavoro veniva riconosciuto e questa città ti rende cittadino col lavoro e non è così in tante parti d'Italia chi viene da altre parti d'Italia lo sa che non funziona così Luca continua a dirlo io cioè Roma non è così Roma nasce a Torbellamonica e stai a Torbellamonica punto fine qui non è stato così poi può essere anedottica eccetera però chi viene da altre parti d'Italia sa ok può essere che quella promessa non ci sia più o che non sia più mantenuta e credo che questo è quello che mi porto io a casa del dibattito però ti voglio restituire una cosa tu dici in particolare facendo famiglia in questa città diventa insostenibile secondo me questo è il punto della difficoltà che stiamo vivendo oggi in questa città non solo per la nostra età anagrafica che tutti quanti stiamo vivendo quello i nostri amici lo stanno vivendo eccetera ma perché io partivo da quel dato inizialmente una città che fa solo 9.000 bambini su 1.400.000 abitanti è una città che diciamo non si riproduce ed è una città che ha una crisi profonda questo fino a qualche anno fa non era così e soprattutto quei temi non erano temi prioritari sono stata a New York New York ha perso il 5% dei suoi abitanti dopo il covid il 9% dei suoi abitanti sotto i 5 anni cioè ha perso il doppio degli abitanti tra i bambini cioè le famiglie con i bambini si sono trasferiti ok quindi questo problema della sostenibilità delle città rispetto alle famiglie è un problema che non ha solo Milano anzi altre città vivono in forma diversa magari anche più acuta cosa vuol dire che dobbiamo semplicemente rassegnarci al fatto che è così no secondo me una discussione come quella di oggi è molto utile perché porta fuori un tema che di solito non era un tema della città e che è diventato un tema della città ci faremo aiutare per capire da chi studia è più intellettuale eccetera come mai che cosa si è rotto secondo me questa è la questione ed è una questione che va riportata nel dibattito pubblico perché se è una città che si fonda sul lavoro non può essere una città che vive solo di lavoro è una città che deve garantire ai suoi abitanti anche il futuro e i bambini le famiglie la possibilità di pensarsi in quella chiave è anche una questione della città per arrivare a quello che diceva Davide io penso che Milano in chiave nazionale abbia una serie di responsabilità se c'è una cosa che non condivido rispetto a quello che qualche volta dice il sindaco è che non si può semplicemente pensare che il resto d'Italia deve funzionare come Milano non è così non funziona così è Milano che dovrebbe mettersi al servizio del resto d'Italia in tante occasioni e spesso questa città non lo fa e non ragionare sull'esempio che si può dare sulle pratiche che si possono condividere sul fatto che si possa fare maggiore rete sul fatto che il resto del paese non ce la fa correre allo stesso livello di Milano ma che è un problema per Milano se il resto del paese è un peso morto questa è l'altra cosa su cui io dalla mia città da chi fa politica a me inclusa in questa città vorrei vedere più riflessioni qui torniamo al discorso che faceva Lucia c'è una grande sfida nazionale il piano nazionale di ripresa e resilienza sono tantissimi investimenti molti più degli investimenti che ha preso Milano negli ultimi anni che verranno distribuite in tante parti d'Italia Milano come può contribuire a questo sforzo? questa è la domanda l'altra faccia della domanda che dobbiamo farci rendere sostenibile avrebbe potuto contribuire evitando di accaparrarsi tutti i fondi Milano non si è accaparrata tutti i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza ha fondato proprio recentemente una delle cose che ha detto sale siccome gli altri non riescono a fare i bandi perché non ci ridate tutti a noi il 50% dei fondi è per legge speso al sud il 50% dove abita un terzo degli abitanti d'Italia quindi ci sarà una sovra presenza degli investimenti giustamente nel sud Italia Milano è essendo una grande città una dei luoghi che riceverà meno fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza guarda una delle cose comunque fondamentali che il PNRR è uno di quelle classiche forme di finanziamento straordinarie peraltro anche a debito che genererà ancora debito e che sarà distribuito come sempre specialmente quando arriva al sud in maniera iniqua io spero che non sia così spero che il nostro paese se li meriti questi fondi e li spenda bene e penso che questa città debba fare una battaglia per dire spendiamoli bene dove serve e smettiamo di dire che li dobbiamo spendere qui aiutiamo il resto d'Italia a spenderli bene punto fine secondo me comunque Milano ha già abbastanza problemi da poter aiutare gli altri quello che però voglio dire è che invece sarebbe opportuno smettere di contare su fondi straordinari e ricominciare a finanziare le cose in maniera strutturale strutturale e ordinaria noi siamo il paese dove si finanzia solo per emergenze per fondi straordinari eccetera eccetera e per banni invece bisognerebbe ricominciare a ripopolare le amministrazioni di personale in modo che possano funzionare essere efficienti invece di costringere le città a tagliarlo bisognerebbe ricominciare appunto a rifinanziare l'edilizia popolare e ristrutturale ordinariamente a fare la manutenzione ordinaria delle strade e degli spazi pubblici è l'ordinario che ci serve non i fondi straordinari io penso che un paese dove solo un terzo dei bambini vanno agli asili nido perché non ci sono i nidi dove più dell'80% delle scuole al sud non hanno il tempo pieno perché non ci sono le mense ha bisogno di un investimento straordinario però magari mi sbaglio però peccato che con i fondi straordinari non si finanzia l'ordinario quindi poi uno fa l'asilo nido nuovo e poi dopo lo dà in gestione a dei privati esterni essi esternalisti i quali potranno sfruttare meglio i lavoratori eccetera eccetera Lucia ti fermo perché dobbiamo chiudere con il buio figurati io sto morendo per colpa vostra adesso mi prenderò di nuovo l'influenza quindi chiudiamo però su questa cosa il lucca misculino del post ti può spiegare che i virus non attivano con il freddo Emanuele Menietti del post io sono convinto che mi sto ammalando in questo momento grazie a tutti gli ospiti che hanno partecipato grazie a voi grazie grazie facciamo altre domande al bar grazie a Cascina Cuccagna naturalmente grazie a Cascina Cuccagna grazie a Cascina Cuccagna grazie a Cascina Cuccagna grazie a Cascina Cuccagna grazie a Cascina Cuccagna